Salve, sono Roberto Sconocchini, probabilmente mi conoscerete meglio con il nome di Maestro Roberto. Sono qui per presentare un percorso di formazione scritto a quattro mani con l'amica, collega e soprattutto ottima formatrice Paola Limone. Saranno quattro incontri attraverso i quali voi scoprirete come stimolare i bambini al racconto, come utilizzare lo strumento ebook per la rappresentazione delle vostre storie, come utilizzare il linguaggio dell'animazione del fumetto per creare le narrazioni digitali, come utilizzare le tante piattaforme presenti in rete per appunto costruire percorsi di storytelling. Naturalmente vi faremo lavorare concretamente con gli strumenti che andiamo a presentarvi e io e Paola siamo pronti a lavorare con voi.